Abbiamo visto una condizione di miglioramento in questi settimane, come stai oggi? L'altro giorno abbiamo fatto la gara per Diego, peccato di non essere riusciti a prendere il fugitivo, però mi ha dimostrato che Diego sta bene, siamo una squadra che può correre davanti e quindi lo faremo quest'oggi. Diego ha dimostrato di avere un'ottima condizione, quindi avrà assolutamente lui la priorità e dovremmo cercare di stare attenti anche perché è una gara che si corre col caldo, quindi sarà un po' diversa dal solito Lombardia e via, si corre per far bene.